Vigilia del debutto nella nuova stagione agonistica per il Ligata Calcio che domani pomeriggio con inizio alle ore 16 riceverà al Dino Liotta la polisportiva Palma nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Torna, a distanza di parecchi anni dall'ultima volta, un derby contro una squadra palmese. Ci è attesa soprattutto tra la tifoseria per vedere all'opera la nuova creatura di Mr. Mimmo Bellomo. Il precampionato dei giallo-blu è stato sicuramente buono e dopo la vittoria, nella prima sgambata contro l'amatori Macchitella Gela, sono arrivati il pareggio senza reti contro il canicattì di Mr. Raimondo Filippazzo, la sconfitta in casa del Gela, avversario di categoria superiore, e poi giovedì nell'ultimo test amichevole il successo contro la Libertas Racalmuto, allenata da Mr. Peppe Balsamo, dove è stato grande protagonista l'attaccante Venniro, autore di una pregevole doppietta nel 2-0 finale. Tante luci e poche ombre nel precampionato del Ligata. La società si è attrezzata per disputare un torneo di primo piano portando alla corte di Mr. Mimmo Bellomo, gente di qualità come Venniro, Martorana, Ballacchino, Cambiano e il portiere Tilaro, e confermando l'ossatura dell'anno passato, con il perno difensivo centrale composto da Puccio e Ortugno e con la diga in mezzo al campo rappresentata da Joelle. Il tempo degli esperimenti è pertanto finito e da domani si inizierà a fare sul serio con il primo derby stagionale contro la Polisportiva Palma.